Buonasera, ben ritrovati ai telespettatori per questa edizione del TG6. Apriamo con la sanità in primo piano, prestazioni sanitarie per la ASL Chieti Lanciano Vasto saranno aggiuntive in quanto sarà possibile inviare entro il 22 luglio la domanda per la selezione di queste prestazioni sanitarie aggiuntive che è stata promossa dall'ASL di Chieti Lanciano Vasto. Con questa iniziativa si cerca di far fronte alle assenze del personale sanitario causate dai contagi da Covid e dalle ferie. La ASL di Chieti Lanciano Vasto ricorre a prestazioni sanitarie aggiuntive con un bando per garantire prestazioni sanitarie anche in un momento così difficile. I contagi da Covid-19 hanno infatti decimato il personale sanitario della ASL e hanno messo a dura prova l'organizzazione. L'infezione ha colpito il 10% del personale, 70 medici e 274 infermieri complessivamente e per non penalizzare i servizi si è pensato a prestazioni aggiuntive. Abbiamo dovuto parlare soprattutto con un avviso per fare aderire il personale sanitario sia medico che infermieristico per far fronte a questa emergenza di contagi sul personale. Quindi noi ci aspettiamo, come è già successo in altre occasioni, una visione molto ampia del personale per poter permettere di andare a sostituire quello che il personale è contagiato. Le domande scadono il 22 luglio, questa è una delle leve che abbiamo escocitato come strategia aziendale, altre leve le stiamo studiando, quelle che potrebbero essere, per esempio, anche l'ottimizzazione del postiletto in base al tasso di occupazione delle unità operative, soprattutto in alcune discipline quando su luglio ed agosto vengono meno ridiche. Le richieste ulteriori sono quelle che hanno sempre dato, che non lo chiediamo, naturalmente al tutto quanto il personale, che in questi due anni, dopo il terzo anno di pandemia, si è sempre stato disponibile a supportare l'azienda. E quindi chiediamo veramente di fare squadra a tutti i parchi, tant'è che adesso gli avvisi non sono più le prestazioni aggiuntive unità operativa per unità operativa, ma l'adesione può essere, diciamo, di tutto il personale, in modo praticamente di far sentire che tutti facciamo parte della squadra, tutti facciamo parte di questa azienda e non possiamo assolutamente permettere di avere servizi essenziali, carenti, soprattutto in questa fase. Sono salvi il conducente e i passeggeri del Pullman che ha preso fuoco sull'autostrada A25 nel pomeriggio al chilometro 109. Lo rende noto strada dei parchi, aggiungendo che conducente e passeggeri sono salvi, sono stati prelevati da un autobus sostitutivo. I vigili del fuoco e la squadra antincendio di strada dei parchi sono intervenuti sul posto e hanno lavorato a lungo per restinguere le fiamme. Per agevolare le operazioni è stata chiusa temporaneamente la tratta Aielli-Celano-Pescina, con uscita obbligatoria ad Aielli-Celano per il traffico proveniente da Roma. L'entrata consigliata verso Pescara è stata quella di Pescina. A Pescara, presidio dei lavoratori GSA di A14, A24 e A25. Questa mattina, dinanzi alla Prefettura, il presidio dei lavoratori della GSA, appunto il gruppo dei servizi associati, la società che gestisce in appalto i servizi integrativi antincendio in prossimità delle gallerie ubicate nelle autostrade A14, nel tratto abruzzese-Marchigiano, A24 e A25, si sono riuniti per chiedere migliorie e migliori salari. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Rolandi, oggi c'è stato questo sit-in a Pescara da parte dei lavoratori della GSA. I motivi di questo sit-in? Poi avete chiesto, ottenuto anche un incontro con il prefetto di Pescara. Cosa avete chiesto? Questi presidi si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale, nello specifico quello che è stato indetto qui davanti alla Prefettura di Pescara attiene i lavoratori che operano nelle autostrade abruzzesi e marchigiane, quindi parliamo del tratto abruzzese-Marchigiano della A14 e poi le autostrade A24 e A25 che collegano Pescara, l'Abruzzo con il Lazio. Questi lavoratori assicurano un servizio supplementare di controllo rispetto ai rischi legati agli incendi che si possono verificare nelle gallerie. Sappiamo che il fenomeno in particolare nel tratto abruzzese-Marchigiano è molto sentito, è molto importante perché sono davvero tante le gallerie dislocate nelle tratte autostradali. Il problema è che a questi lavoratori viene applicato un contratto che noi definiamo pirata, cioè un contratto che non riconosce i diritti dei lavoratori, che riconosce delle retribuzioni molto basse. Si pensi che da quando è iniziata la nostra protesta, da quando siamo riusciti a intercettare questi lavoratori che sono venuti loro stessi a chiedere aiuto alle organizzazioni sindacali, si sono affrettati a rinnovare un contratto che non veniva rinnovato da 13 anni, quindi sono stati questi lavoratori senza un rinnovo contrattuale per 13 anni e per vedersi poi riconoscere la misera somma di 30 Euro. E noi questa cosa siamo venuti a dirla anche alla Prefettura, così come sta accadendo in tutta Italia. Peraltro oggi è in programma anche una prima azione di sciopero in Toscana di 4 ore, cui seguirà un'ulteriore azione di sciopero, questa volta a livello nazionale, in programma per il prossimo 25 luglio. Sono 2.984 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono stati diagnosticati con l'esame di 1.388 tamponi molecolari e 9.983 test antigenici. Il tasso di positività è del 26,2%. I nuovi positivi provengono 550 dalla provincia dell'Aquila, 925 da quella di Chieti, 661 dalla provincia di Pescara e 649 da quella di Teramo, 70 da fuori regione, mentre 102 sono in corso di verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti sale purtroppo a 3.412 poiché registra 5 nuovi casi. Si tratta di una 88enne della provincia di Teramo e di una 90enne della provincia di Chieti, mentre 3 decessi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi alle ASL. Boom invece di guariti nelle ultime 24 ore a seguito del realinamento dei dati. Sono 13.826, gli attualmente positivi scendono a 43.612, meno 10.847 rispetto a ieri. 268 pazienti sono ricoverati in ospedale e in area medica, più 9% rispetto a ieri e in terapia intensiva 5, che sta per un più 1 rispetto a ieri. Un 45enne è stato bloccato con il Tesera e arrestato dai carabinieri di Avezzano dopo aver girato sulle strade della località di San Potito, frazione di Ovindoli, armato di macete in modo da impedire il traffico delle auto e minacciando i passanti. Protagonista dell'episodio, un uomo del posto in evidente stato di alterazione che dovrà rispondere di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. La pattuglia intervenuta ha cercato di far desistere il 45enne. Scongiurando una grave situazione di pericolo, l'uomo è stato neutralizzato con l'utilizzo del Teser e ora è in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP dello stesso tribunale. I carabinieri rendono noto che l'utilizzo del Teser per la prima volta in provincia dell'Aquila è stato necessario ed è stato portato avanti nel rispetto della normativa vigente e di tutte le direttive ministeriali recentemente diramate. Nella specifica circostanza è stato anche attivato il protocollo sanitario con l'intervento contestuale di un'ambulanza del 118 ma per fortuna nessun pericolo per la salute della persona coinvolta. E andiamo avanti, parliamo adesso di PNRR dall'albergo diffuso alla realizzazione di infrastrutture e servizi ai cittadini e turisti. E questo è il progetto illustrato ieri a Rocca Calascio dalla Regione ed è il risultato vincitore di un banto del PNRR da 20 milioni di euro per la rigenerazione dei borghi a rischio di abbandono. Sentiamo. È un progetto molto ambizioso, bellissimo, Rocca Calascio ha vinto il bando che la Regione ha voluto fare proprio per stimolare dal basso la partecipazione e anche le proposte che sono arrivate, molte pregevoli. Tra queste è appunto Calascio che è quella che è risultata vincitrice. Saranno soldi importanti spesi per rivitalizzare un borgo autentico tra i più iconici del mondo. La Rocca di Calascio è quel castello che viene disegnato dai bambini o fatto sulla spiaggia con le quattro torri e le mura, i merli, sede, infatti fotografatissimo. Già oggi, nonostante l'assenza di infrastrutture, di parcheggi, di sufficiente ricettività, ospita, viene visitato da circa 100 mila persone l'anno. Noi pensiamo che con questo progetto, questo magnetismo, questa attrazione culturale e turistica possa moltiplicarsi a beneficio dell'intero Abruzzo e di gran parte del territorio circostante. e adesso tutti al lavoro per trasformare questa opportunità in un fatto concreto. Questi piccoli borghi hanno una caratteristica, la loro genuinità, la loro autenticità, ma la loro mancanza di infrastrutture e di mancanza di popolazione. Stiamo provando come regione a mettere riparo a queste criticità. Questo tipo di progetto sicuramente darà lustro alla Rocca di Calascio, valorizzazione a tutta Calascio, ma a tutta la zona, a tutto un ambito, a tutta una parte montana che già da sé attrae centinaia di migliaia di turisti l'anno. Certamente infrastrutturare il turismo, organizzarlo e istituzionalizzarlo diventa ormai la sfida. Quindi cultura, natura, turismo, albergo diffuso, infrastrutture, tutte parti integranti di un progetto straordinario che compone questa bellissima cartolina. Con legge regionale numero 10 del 16 giugno 2022, la Regione Abruzzo trasferisce in comodato d'uso all'Università degli Studi di Teramo l'ex mensa e l'ex casa dello studente. Si concludono così i punti dell'accordo in programma del 2016, a seguito del finanziamento ricevuto dall'Università di Teramo nell'ambito del Masterplan Abruzzo, che prevedevano da un lato l'impegno dell'Università di Teramo a cedere in comodato d'uso alla Regione la sede di Viale Crucioli, atto siglato dall'Ateneo nel 2017, e dall'altro l'impegno della Regione Abruzzo a cedere a titolo gratuito i due suddetti stabili. Sono soddisfatto, ha dichiarato il Rettore Dino Mastrocola, della conclusione dell'ITER che ci permette di completare gli obiettivi del Masterplan che, oltre alla riqualificazione dell'ex manicomio, prevede il progetto del Centro Europeo AgriBioServe e la realizzazione, proprio nella sede dell'ex mensa, degli impianti pilota e di laboratori in grado di mettere a servizio di territorio l'attività di ricerca applicata, industriale e di sviluppo sperimentale dedicata ad aziende del settore agroalimentare. Voltiamo pagina a far conoscere alle famiglie i servizi sociali e sanitari cui possono accedere e il senso del progetto Informa Autismo, per il quale questa mattina è stato sottoscritto a Teramo un protocollo d'intesa tra l'Associazione Abruzzo Autismo Onlus e Lanci Abruzzo. Si tratta di una collaborazione innovativa che mette insieme, come ha detto il Presidente Gian Guido, due istituzioni, insomma in realtà la nostra associazione è quella dei comuni perché ci siamo resi conto della nostra esperienza nell'ambito regionale che ci sono tante famiglie che non conoscono le norme, i diritti e l'approccio ai servizi sociali e sanitari, ma allo stesso modo ci sono dei comuni che non riescono ad informare adeguatamente le famiglie. È un processo che va assolutamente invertito e pensiamo che questo protocollo possa essere il primo passaggio di diffusione di queste basi di riferimento. Da qui ovviamente intendiamo costruire anche altro perché la preoccupazione principale delle famiglie con autismo, ma di tutte le famiglie con disabilità grave è il dopo di noi, il durante e dopo di noi. In concreto organizzeremo degli eventi informativi, ma anche formativi perché per esempio voi sapete e chi ci ascolta sa che spesso nella scuola trovare assistenti qualificati o docenti che hanno delle competenze è un po' difficile, allora vorremmo inserire oltre all'informazione anche percorsi formativi, dedicati alle famiglie, dedicati agli operatori, perché no, dedicati anche ai docenti di sostegno. Da lì poi anche proporre ai singoli comuni, agli ambiti sociali, proposte progettuali. Il progetto informotismo che viene portato avanti è un'occasione per costruire conoscenza, consapevolezza e quindi poter mettere in campo azioni, azioni che devono riguardare tutto il territorio regionale, riguardare il dialogo tra le politiche sanitarie e le politiche sociali per creare progettualità e quindi intercettare risorse che devono assolutamente essere messe a disposizione dalla Regione Abruzzo in un'ottica di programmazione per consentire a tutti i territori di dare risposte e quindi anche di creare diseguaglianza. È anche l'occasione, come ho ricordato in conferenza stampa, di ricordare lo slogan che abbiamo un po' richiamato in occasione della giornata sulla consapevolezza dell'autismo, ogni giorno è 2 aprile, quindi non ci si può ricordare delle problematiche sull'autismo solo nell'occasione della giornata sulla consapevolezza, ma farlo quotidianamente, costantemente e consentire a tutti i comuni, a prescindere dalle dimensioni, di essere informati, di conoscere e fotografare il proprio territorio e soprattutto di mettere in campo delle azioni che non facciano sentire le nostre famiglie mai sole. Alvia la venticinquesima edizione del premio di letteratura Parco Maiella, torna anche quest'anno il premio nazionale di letteratura naturalistica intitolato proprio Parco Maiella, che è giunto alla sua venticinquesima edizione questa mattina a Pescara. La presentazione, Paolo Lenzetti. Torna il premio di letteratura naturalistica Parco della Maiella che vedrà il Clu sabato 23 luglio ad Abbateggio con la cerimonia di premiazione. Presidente di giuria sarà Lapo Pistelli, ospite d'onore della manifestazione Paola Gasman. L'evento è promosso dall'Associazione alle Falde della Maiella in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di richiamare l'attenzione su opere nelle quali un ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte nuovo capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e denso di sviluppi e approfondimenti. Questa mattina la presentazione ufficiale della venticinquesima edizione. Quando abbiamo pensato il progetto premio Maiella pochi credevano alla letteratura intesa come quella vocata a trattare le tematiche ambientali che poi doveva essere presentato al nostro concorso e quindi essere valutato. Questo invece ha dimostrato in questi venticinque anni il nostro progetto, un progetto importante, solido, credibile che ha visto vincere tantissimi autori da ogni parte d'Italia, autori che hanno prima partecipato a premio Maiella, evidentemente a volte anche vinto il premio Maiella e poi hanno vinto il campiello e lo strega. Quindi è veramente di buon auspicio ma non solo dal punto di vista dei concorrenti ma anche per la nostra regione, per il nostro parco perché tramite premio Maiella si è conosciuto anche un territorio che prima non si conosceva. Io tra questi che più hanno calcato il palco e premio Maiella ricordo Dacia Maraini, Grazia Francescato, Pintor, Giorgio Celli, ma così come Paolo Rumiz, Mauro Corona, insomma sono stati tanti coloro che hanno avuto in questi anni la possibilità di cimentarsi con premio Maiella. E siamo alla pagina degli spettacoli. Tutto esaurito ieri sera al teatro d'annunzio di Pescara per la data abruzzese dei Simple Mind che hanno ripercorso i successi più significativi della loro carriera. Grande successo anche mercoledì per gli incognito. Andrea Costantini. Buonasera Pescara! Due serate da sold out al teatro d'annunzio per alcuni degli eventi di punta del Pescara Jazz. Ieri sera entusiasmo alle stelle per i Simple Minds, la band britannica guidata dal leader Jim Kerr che ha spopolato negli anni 80 e 90 e che nelle oltre due ore di concerto hanno ripercorso alcuni dei loro brani più celebri da Don't You a The Live and Kicking, da Mandela Day a Belfast Child. La band che ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo prosegue il suo percorso. Il 21 ottobre uscirà il loro nuovo album Directions of the Heart. I 12 musicisti della band degli incognito mercoledì sera hanno offerto uno spettacolare viaggio nel loro mondo musicale dagli innovativi esordi con la acid jazz alle contaminazioni con la musica napoletana rielaborando funky and soul. Il leader Jean Paul Bluie Monink ha offerto un avvincente storytelling del proprio percorso musicale affiancato anche da ottimi musicisti italiani. Dal 19 luglio al 20 agosto si svilupperà il cartellone di eventi della rassegna Si odono suoni tra la terra e il cielo organizzata dall'associazione Castellarte con l'ausilio della sezione CAI di Isola del Gran Sasso. Sentiamo. Dopo l'iniziativa dell'anno scorso del Gala della Lirica torniamo ad Isola del Gran Sasso con una serie di eventi programmati nel territorio del comune in luoghi montani e soprattutto nei boschi. Musica dal vivo, acustica, per salvaguardare anche il benessere della fauna, quindi senza violentare il territorio. Ogni evento musicale sarà anticipato da una breve escursione anche per quelli che non sono abituati a camminare tanto per arrivare al luogo del concerto che solitamente è un luogo non raggiungibile con una macchina, quindi con l'auto, quindi per forza bisogna camminare e di questo ringraziamo molto la collaborazione del CAI che ci sarà un grosso supporto da questo punto di vista. Una bella soddisfazione grazie a Iacone. Iniziamo il 19 da Piazza Guglielmo Marconi con il maestro Schicchi e poi avremo una serie di concerti itineranti su tutto il territorio, territorio del parco, abbiamo chiesto anche il permesso al parco, saranno davvero chicche di arte e musica d'autore. E siamo allo sport, scattato il ritiro a Palena, ecco Luca Mora ha iniziato infatti oggi il ritiro della squadra del Pescara a Palena con il primo allenamento sostenuto nel tardo pomeriggio. Non fa parte del gruppo Amadu di Ambo che questa mattina ha risolto consensualmente il contratto con la società. C'è invece il neoacquisto Luca Mora che oggi ha sostenuto le visite mediche prima di firmare il contratto. Lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Luca Mora dopo tante parole, tanti rinvii, finalmente Bianca Azzurra, insomma volevi il Pescara, sei arrivato al Pescara e il Pescara voleva Luca Mora. Sì sono molto felice, sono appena arrivato, ho avuto subito una bellissima accoglienza e sono carico per questa nuova avventura. Arrivi dalla SPAL, arrivi dal campionato cadetto al Pescara in Serie C, ma Pescara è una piazza importante che fino a qualche anno fa giocava in Serie B e anche in Serie A. Sì sì assolutamente, poi non sono un giocatore che pensa a queste cose, negli ultimi anni ho giocato in Serie B, prima avevo giocato anche in Serie C, insomma l'importante è avere voglia di fare, di lavorare, io ne ho tante quindi spero di riuscire a rendere al meglio e che la squadra raggiunga gli obiettivi stagionali migliori possibili. Come è maturata questa trattativa? Mi ha chiamato il direttore dell'ICAR, mi ha un po' illustrato la sua idea per quest'anno, insomma ci siamo trovati abbastanza subito d'accordo, ovviamente c'è stato un attimo di trattativa ma insomma ero smagnoso di cominciare anche perché di stare a casa ad aspettare, ad allenarmi da solo, insomma non ero molto predisposto e quindi appena è arrivata un'offerta importante, da una società importante ho deciso di accettare subito. So che negli ultimi anni ci sono state le stagioni un po' deludenti però sono cicli nel calcio e speriamo di ripartire con tanto entusiasmo, è chiaro che forse all'inizio la situazione non sarà delle più semplici perché c'è un po' di sconforto da parte dell'ambiente ma siamo carichi per cercare di riportare entusiasmo e dobbiamo essere noi a trascinare il pubblico e poi dopo saranno loro a trascinare noi oppure insieme. Un Pescara Spalle 0 a 1 del 2021, Luca Mora che si procurò il rigore che poi diede la vittoria alla Spalle, ci fu anche una diatriba tra te e Drudi, Drudi fu espulso, ricordiamo quell'episodio? Sì, non lo ricordo bene ma sono cose di campo, per me il rigore sinceramente c'era anche se so che qualcuno ha detto che mi sono buttato però c'è stato un contatto col ginocchio di Scognamiglio poi è chiaro che ognuno vede le cose un po' poi dalla sua parte, con Drudi ripeto sono cose di campo, lui forse era un po' nervoso perché aveva fatto un fallo, è venuto testa a testa, io non ho fatto niente, non mi sono neanche buttato a terra quindi insomma l'abito ha deciso di ammonire tutte e due, penso lui era già ammonito dell'ha espulso però ecco, ripeto sono cose di campo, non ci vedo niente di male o di cui parlare, ecco insomma, solo un episodio di calcio. E si terrà lunedì pomeriggio l'udienza del collegio di garanzia del CONI sul ricorso presentato dal Teramo contro l'esclusione dalla Serie C deliberata dal Consiglio federale. Per il club sarà una giornata di spartiacque. Andrea Costantini. Lo sblocco delle quote della Green Sports, società che detiene il 60% di Teramo Calcio SRL, riapre qualche speranza per il club bianco-rosso in vista del ricorso al collegio di garanzia del CONI che sarà discusso questo lunedì nel primo pomeriggio. Nella dirigenza terramana c'è l'auspicio che il riprendere la totale autonomia gestionale possa convincere i giudici a dare una chance al Teramo di mantenere la Serie C. Il ricorso della DCF Legal degli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari continuerà a far leva sull'impossibilità del management di agire a pieno regime nella soddisfazione di tutti gli adempimenti previsti per l'iscrizione entro il termine perentorio del 22 giugno, proprio per la presenza del Tribunale di Roma che aveva la custodia delle quote di maggioranza. Oltre a ciò, prima dell'udienza di lunedì pomeriggio, i legali produrranno una ulteriore memoria nella quale si sottolinea l'avvenuto sblocco delle quote fatto verificatosi la mattina di martedì scorso all'indomani del termine per la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, inoltrato lunedì. I legali chiederanno anche una direzione dei termini per poter sanare le omissioni rilevate dalla Covisoc. In realtà un obiettivo è stato già raggiunto, il piano di rateizzazione delle annualità pregresse dell'IVA, chiesto il 20 giugno ma ottenuto oltre il termine perentorio del 22, cioè il 5 luglio. Lo scoglio più alto resta dunque il ripienamento dell'indice di liquidità per una somma che sfiora il milione di euro e che scende a 812 mila euro volendo includere il saldo attivo della campagna trasferimenti. Nei piani di Davide Ciaccia c'è la cessione del 60% delle quote di Green Sports all'imprenditore Giuseppe Spinelli che anche nell'intervista rilasciata ieri al messaggero ha confermato la sua disponibilità. Resta da capire se sarà realmente disposto a sostenere una spesa così onerosa senza avere la certezza di poter disputare la Serie C, unica categoria a cui l'imprenditore siciliano d'origine e che opera alle porte di Roma è interessato. Insomma un piccolo spiraglio c'è ma la battaglia per tenere la C resta estremamente complessa. In caso di esito negativo al CONI ci sarebbe poi la giustizia ordinaria e quindi il TAR ma a quel punto il sindaco Gianguido d'Alberto che segue da vicino l'evoluzione della vicenda potrebbe rompere gli indugi, imprimere un'accelerata alla procedura prevista dall'articolo 52,10 delle NOIF e chiedere al Presidente federale Gravina, con cui giorni fa c'è stata una prima chiamata esplorativa, un titolo per l'iscrizione in sovrannumero di una nuova società nel campionato di Serie D, selezionata dallo stesso primo cittadino dopo un apposito bando e previo il rispetto di determinate prescrizioni economico-finanziarie. Tutto passa per il verdetto di lunedì. Chieti Calcio ci aspettiamo un futuro di sfide e di rinascita con la nuova proprietà, così il sindaco di Chieti Ferrara ha commentato la notizia dell'imminente acquisizione da parte del Chieti Calcio, da parte del nuovo proprietario. Il nuovo patron della Chieti Calcio sarebbe l'imprenditore Ettore Serra. Si attende l'ufficialità della notizia, ma pare essere l'imprenditore torinese Ettore Serra, il nuovo proprietario della Chieti Calcio. La squadra intanto è stata riscritta in Serie D, da parte dell'amministrazione comunale, allora qual è la posizione? Insomma siamo felici, è una trattativa che sta volgendo alle battute conclusive e si sta chiudendo in maniera positiva. Siamo felici perché abbiamo sin da subito avviato una interlocuzione con il tessuto economico della nostra città, ma anche oltre ai confini regionali, proprio per fare in modo, una volta apprese quelle che erano le volontà dell'attuale proprietà del patron Trevisan e della società, abbiamo sin da subito cercato veramente di creare tutte le sinergie possibili, il tessuto economico della nostra città risposto in maniera positiva, ricorderete l'evento che abbiamo organizzato in teatro insieme al nostro sindaco e insieme al nostro vice sindaco e insieme al prefetto. Poi si è andata avanti con una serie di interlocuzioni che hanno portato a questa trattativa e devo dire che c'è stato un grande senso di responsabilità collettivo, ma anche un grande senso di responsabilità da parte dell'attuale proprietà che poi ha concretizzato questa operazione. Un'operazione che ci auguriamo possa rappresentare qualcosa di importante per la scuola di calcio e per la città intera. Significativa tra l'altro la notizia per i tifosi, ma anche in ottica di ristrutturazioni che sono in programma? Significativa perché ovviamente Chieti merita un calcio ad alti livelli, ha fatto degli importanti campionati, quello di quest'anno di Serie D, l'anno scorso con la promozione proprio nella quarta categoria nazionale, però è ovvio che le ambizioni della città sono collimanti con quella che è la storia della squadra, con quello che è il potenziale e quindi l'obiettivo chiaramente è quello di poter tornare a vedere un calcio professionistico, una città che risponde sempre in maniera positiva, una tifoseria che partecipa assiduamente alle partite. Insomma, le condizioni ci sono tutte e speriamo che questa nuova proprietà, ovviamente una volta concretizzata l'acquisizione, saprà regalare soddisfazioni appunto alla scuola di calcio, ma alla città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che i nostri contenuti, i contenuti del nostro Tg sono consultabili alla pagina Youtube di TV6, anche su Facebook e Instagram. Grazie per essere stati con noi, di nuovo un cordiale buonasera, arrivederci. Grazie.